...è vuota retorica, si rischia di escludere le persone, ma c'è una tradizione che invece dice che si tratta di valori universali e condivisi, sì, ma c'è una specificità appunto... Ciao, sono Gian Paolo Bernasconi, parlo da Faloppio, oggi è il 15 agosto 2016, il 15 agosto del 2016. Voglio dire qualcosa sul mio blog, oggi ho scritto due articoli, uno sul guardia di finanza, questo è l'articolo, uno sul guardia di finanza, la fiamme gialla e la corruzione in Italia, e l'altro su un molto buon libro, Extraordinary Poppera Delusion e la Madness of the Crows. This is a very good book, you can find on Amazon, Madness of Crows, and this is the book, this is the book, Extraordinary Poppera Delusion and the Madness of Crows, you can see it here on Amazon, wait a moment, this is the book, and this is a must reading because it explains how the crows, there is madness in the crows, especially in times of war, of famine or other very bad situation. Bye, thank you. Grazie.